16 ottobre 1946, questo è il giorno in cui nasce la casa di padre Damiani, un posto dove stare ma soprattutto una famiglia, per gli orfani striani dell'epoca e per tutti coloro che ne avevano bisogno. Una risposta, una storia, un futuro, proprio come il titolo dell'evento in suo ricordo che si terrà il 12 ottobre al teatro sperimentale e il 13 alla cattedrale. Il tutto ha 78 anni dalla fondazione della casa e dove per l'occasione sarà presente il sindaco di Trieste e di Gorizia e alcuni suoi ex alunni affinché la storia e il ricordo vivano nelle testimonianze del presente. È una figura pesarese molto importante ma forse un po' dimenticata ed è anche il senso di questo evento, far riscoprire questa figura. Certo sì, lo Spirito Santo si è abbastanza divertito perché lui nasce nel 1910 da due genitori direi veramente anticattolici che proprio come offesa alla Chiesa Cattolica lo chiamano Calvino. E chiamarlo Calvino nel 1910 voleva dire proprio sotto l'ideare uno dei massimi artefici della riforma protestante, di quelli duri e puri. Poi ecco le vie di Dio sono molto fantasiose e lui in realtà viene cresciuto dalla nonna la quale invece è molto religiosa a differenza dei suoi genitori. Quindi lui viene alla fine educato religiosamente, decide di farsi prete e cambia il suo nome appunto perché Calvino non faceva per un sacerdote e prende il nome di Pietro. Quindi come dire, lo Spirito Santo si è un po' vendicato tra virgolette facendo di quest'uomo un grande sacerdote e un grande padre per tanti ragazzi. Il sabato 12 ci sarà il momento laico di ricordo e di commemorazione e il giorno dopo, la domenica invece religiosa perché ci sarà la celebrazione ufficiata dal nostro arcivescovo alle 11.30 in cattedrale. Perché facciamo questo evento? Sicuramente c'è una data il 16 ottobre del 1946 ma soprattutto vorremmo far conoscere alla Pesaro di oggi quelle che sono state le opere di bene compiute dalla Pesaro di allora. Grazie alla presenza di un sacerdote come padre Damiani, come sacerdote meglio noto come Don Pietro Damiani, che a suo tempo nel 1945 sentì questa chiamata, ecco perché nel titolo c'è una risposta, sentì questa chiamata di dare un sostegno, un aiuto a tanti bambini che in quel periodo storico dall'Istria insieme alle loro famiglie venivano portati in Italia come esuli perdendo tutto. E quindi c'era un dramma di questi bambini e lui pensò di venire a Pesaro e di portarli a Pesaro perché lui era innamorato della sua città perché non dimentichiamoci che padre Damiani è un pesarese a tutti gli effetti, di sangue puro. E come tale ho voluto pensare non tanto di sviluppare qualche cosa a Trieste dove era lì in quel momento come cappellano militare, ma ha pensato che ai bambini, il mare, qualche cosa che potesse far bene e venne a Pesaro pensando di realizzare quest'opera senza avere nulla. L'unica sua forza fu affidarsi a Gesù Cristo perché aveva sentito questa vocazione e di lì è partito. Ma la grande forza di padre Damiani è stata quella di coinvolgere la comunità di Pesaro. Pensate a un progetto, un mattone per padre Damiani, quindi pesaresi che venivano qui a portare dei mattoni per costruire questa casa oppure le famiglie che la domenica e il sabato venivano a prendere i ragazzi ospiti qui di questa casa per fargli passare un fine settimana in famiglia. Ed era con noi giovani seminaristi e preti giovani così scherzava molto. Abbiamo visto veramente un cuore di padre, ecco perché l'hanno chiamato padre Damiani poi, di solito i preti si chiamano Don. A lui l'hanno chiamato padre perché è stato veramente un padre per tantissimi bambini e ragazzi che lui ha educato e ha cresciuto. E diciamo che questo suo atteggiamento paterno l'ha mantenuto per sempre e credo che anche queste opere che sono assorte in queste strutture che lui aveva costruito e realizzato, cioè una scuola appunto per continuare l'opera educativa ai ragazzi e una casa di riposo per accompagnare gli anziani nell'ultimo tratto di vita, siano penso una bellissima eredità che lui ci ha lasciato e che è fiorita proprio dalla sua radice. L'evento deve servire per ricordarci di un grande pesarese, un grande sacerdote, ma soprattutto per essere orgogliosi del nostro cuore di pesaresi capaci di accogliere.